Grazie a tutti! Grazie a tutti! Quindi, qui ci troviamo davanti a questa qui, che non so, sta facendo matematica, perché si vede tipo un triangolo, una circonferenza, non so. Faremo oggi questa missione qua, cuovo sul treno, il pedinatore è pedinato, cioè proprio tutti che si pedinano e non si capisce più niente in questa Londra. Mi serve un aiuto, si, aspetta, che molto aiuto. A tiri pedinatore di Agnes al treno. E chi è Agnes? Questa qui? Perché? Siamo pedinati. Puoi? Ah no, è una zebra, no, non è un pedinatore, questo invece è una gazzella. Vabbè, andiamo avanti, a parte gli scherzi, andiamo avanti. Ciao. Madò, io scumbaro. Madò. Ma? Ma che facciamo? Ce ne andiamo? In questi giorni, durante i miei giri, c'era un tizio che mi seguiva. Un tipo strano. Non tu stai, io? O non te vedo? Sai cosa? Comportati come sempre. Se si fa vivo lo tengo d'occhio. Torniamo qui e lo carichiamo a bordo. Ah, va bene. Eh, vabbè ragazzi, raggiungi il punto di incontro. Di interpunzione. Dove sta un punto di interpunzione? Una faccia che la tende. Insomma, oggi faremo la missione con la nostra cara Ivy. Elettrizzante. Perché lì ha bevuto Red Bull e allora gli mette le ali. Cioè no. Si vola adesso. No, non è che... In realtà non vola, no. Ha l'elettricità in corpo. Un elettrizzante. Ho visto bambino che... Vado a quando vola! Oh! Quello non è flash. No, 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 no. No! Si scrazia. Avevo visto trapassare... Avevo visto il bambino trapassare la ringhiera e svolazzare qui. È lui! Voglio... Voglio l'autografo! Quello è il figlio di... Il dito, mamma. Dimmi chi è tuo padre. Scommetto che è flash. Dammi l'autografo. E com'è? Fino a mo' volavi. Ma non ci volevo volare. Se fossi lui, me ne volerei via. Che è successo? Ah. Aspettiamo. Aspettiamo. Perché può anche darsi che fa qualche altra... Cosa... Stupefacente. Fatto perché mo' cammina come un cretino. Si blocca. Forse sarà la mia elettricità che lo attira. Non so. Vabbè, basta col bambino supereroe. Andiamo a fare sta missione. Purtroppo... I ruti non finiscono mai. Allora, purtroppo... Abbiamo visto che nella puntata precedente... Non avevamo la possibilità... Di... Produrre... Il vestito di Dracula... Per un motivo. Cioè, i soldi ce li avevamo. L'unica cosa che mancava è che... Era la perla di Hubar... Non mi ricordo come si chiama. Questa mi ha ammazzato. Calma, ragazzi. Andatevi una calmata. Qua si gioca a pallone. Chi è di piccino... Gioca a palla. Sto andando male qua. Dove la strada? Dove è l'uscita? Niente, non si trova una uscita. Bambini, ditemi dove è l'uscita. Con quale scena può azzeccare meglio? Con gli uccellini che migrano... E se ne vanno. Guarda come se ne vanno. Guarda. Ragazzi. Poi c'è lei con l'elettricità dietro la schiena. Lei per esempio. Cioè, c'è una canzor che azzecca di più con questa scena? No. Appunto. È la stessa cosa che dico anch'io. No. Perché ti c'è? Ma non c'è scuccia la trucca da sito. Sembra a me che è stato vedeio. Va bene ragazzi. Va bene fughetta. Ma è finito. Piano piano stiamo arrivando alla missione. Ma dove può che fare la Ferrari? Saliamo sopra al palazzo. Una banda ti sta addosso. Una banda di progetti. Niente del genere. No, io lo so più quelli anni. Sei sicura? Sicura di saperlo? La sociale bretelle da dietro. Fa cicciola. Sì. Ma qualcuno mi dice che è quello lì, uno della banda. Voi non mi dovete scocciare. Lo devo pedinare. Però la cosa buona a proposito è che io ho sbloccato appunto l'abilità dove se io sto fermo questo ovviamente è sicuramente con Mivi allora io divento trasparente. Mi mimetizzo. Sarebbe l'abilità Camaleonte. Ma che sti bambini qua? Quindi se anche io fossi un po' più vicino comunque non mi vedrebbe perché io mimetizzo. Tipo adesso. Ecco qui. Non mi vede. Solo che se mi trovo troppo vicino mi vede ovviamente. Cioè in buco parole divento come a a come che si chiama? Ai fantastici quattro. Eh quello vuol dire. La ragazza invisibile. Eh la ragazza invisibile. Cioè più semplice di così. Eevee invisibile. Scusate ma quella là è di una banda importante. Banda? Ma quale banda? Eevee invisibile sì. Credo sia nel treno. Saranno quei bastardi nemici di Keylock. No quello muove c'è tutto. Eliminiamo. Non c'è. Eccola. E' quella colpa si va a rimanere un po' di torta. Oh difendi. Devo difendere quindi Agnes. Basiche però non si ingastra. Chi vuole un po' di torta. Chi vuole un po' di torta. Porca miseria. Lascia stare. E' vero che è grossa. Nooo. Mena salire. E sali. E sali. Oh. Oh cavolo. 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 Meno male. C'è l'ultimo. Questo tipo ha legto come una lumaca. C'è l'ultimo. E vai. Allora sono visto un po' brutto da qualche parte. Vero? Ok. Certo che sì. Perché lo chiedi? Un'intera banda ti sta cercando. Ma va. E' solo un tizio ed è pure incapace. Nooo. Sono pericolosi. Potrebbero tenderti un agguato alla stazione. Sono pericolosi. Non dire assurdità. Arrivare in stazione prima di Agnes. Eccolo qui il treno. Ho questa nota. Eh. L'agguato. Io lo sapevo. Sono diventato trasparente intanto. Do stanno che non li vedo. Ah. Eccoli. Eccoli. Vorti disgraziati disonesti. Questo non già sta vedendo un do. Sta fermo. Pure è questo. Sono in pochi quelli che si danno da fare. C'è proprio per poco mi veniva addosso il treno. No. Dov'è? Perché è andato da tutta la palla? Una ronda. Questa fa molto male. Niente. Ci sono quelli che non gliene frega niente. Ma beh. Ma che facciamo? Sare scendi. Dove sta? Eh sì. Non dovrebbe essere... Deve dire a me come è facile Sarà meglio non perdere tempo Levatevi Quello sta oltre la linea gialla Tu chi sei? Nigel, Nigel Bumble Perché ci seguivi? Io voglio unirmi a voi Ah, per la miseria, sa anche chi siamo Va bene carino Puoi aiutarmi a ripulire il treno Se non ti dispiace sporcarti Davvero? Fantastico! Non ve ne pentirete, no? Vabbè, abbiamo un altro scimmiottone qua Un altro stupido qua Nel treno Ti ha detto che servirà per pulire il treno Vabbè Sì, cos'è il suo Ah, ma quindi È vero Perché se io cambio personaggio Comunque sia i soldi vanno a tutte e due Eh Ma la perla La perla nera Mica l'ho trovata Ok ragazzi Spero che questa puntata vi sia piaciuta Mi raccomando Se questo è stato Vedete un bel mi piace Commentate Iscrivetevi se ne avete ancora fatto Noi intanto ci vediamo con questa puntata Proprio con questa qui Cuo sul treno Innocenza di Nigel Bella ragazzi Noi intanto ci vediamo